la maestra chiede ai bambini bambini che devo esattirmi tre animali con il pelo un bambino io 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 maestra io allora dimmi vincenzino il cane il gatto il treno come vincenzino il freno e sì perché il mio papà dice sempre che lo prende per un pelo ciao bambini un abbraccio ciao ciao bambini oggi parliamo di storia anzi di preistoria barzelletta preistorica un bambino torna da scuola verso la sua caverna e incontra il papà gli mette la pagella sul tavolo e gli dice papà ecco la pagella il papà prende la pagella figliolo mio capisco il quattro in italiano è poco che parliamo capisco il quattro in matematica non abbiamo una mente molto sviluppata ma quattro anche in storia due cose ti dovevi ricordare ciao bambini ciao bambini momento barzelletta allora pierino e la nonna vanno al mercato camminano camminano e pierino vede una moneta per terra e dice no la nonna guarda una moneta la posso raccogliere la nonna giustamente dice no pierino non si raccolgono le cose per terra continuano a camminare a camminare la nonna che è un po' anzianotta inciampa e cade per terra pierino aiutami alzarmi non ci riesco da sola e pierino risponde no nonna mi hai insegnato tu che non si raccolgono le cose per terra sapete qual è il colmo per una azienda che produce cartigenica andare a rockabilly ciao